Attento qui il difensore che è allontana. Baggio! Grande intervento! Pallone che finisce in porta! Questo è un presto impotato bene, Pierre. L'hanno approfittato subito. Portiere che non ha potuto nulla sulla ribattuta. Era stato bravo a intervenire sulla conclusione precedente, ma alla fine si è dovuto arrendere. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Va con il possesso palla. Palla fra i piedi in con Müller prova. Pallone che trova il palo. Palla ancora buona. Vantaggio solo sfiorato. Determinante la deviazione dei legni. Owen, palla al piede. Attenzione pericolo! Si sono portati in vantaggio con un gol che era...